E adesso andate via, voglio restare soli. Eccoli qua, questo è l'almendra, di queso, di formaggio, di latte e questa è l'atelesbona, questa è l'almendra, ok, grazie, perfetto, stendi ci porti anche una bottiglia d'acqua per favore, normale cassata, una cassata pastosa, un coltello se lo abbiamo, fate calme e viate un pochettino d'acqua, io già questo te lo dico, se è buono me ne mangio un altro paio, già la vedo che mi guarda questa cosa, sembra tipo la, come se fosse un gaspaccio, ma non c'è nulla, facilmente, allora, perché sopra invece sotto, è sotto, allora, leva la carta, infatti, no, no, la voglio mettere in questo vaiolo perché a Barcellona si mette qui, noi siamo a base a Lisbona, per cui, per cui, per cui, per cui, è pratico, tiene fame lui, vai con la capocchetta, voilà, cosa è fatto ragazzi, grazie, 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 come siamo sti ragazzi, Ti chiede, eh, sedici, Allora questo abbiamo finito non ce n'è E va bene Questo non è benissimo Com'è, com'è, com'è Com'è Buono, buono E la pasticca E ho presa già la prima Non è dolcissima Buona, buona 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 Ma ricca, procedi Vi seziona, va Allora, dicevo, il baccalau Potremmo anche il baccalau Tocca La sci tocca E' bello Quanto è difficile? Buono quattro Dammi un'altra Fai tu? Povero Buona Io approfitto Questo è di latte Questo? Di latte Perché tu fai troppo Capito? Di latte questo Dove lo fai spesso puro? No, perché ti fa capire Scusate, ma io faccio due colazioni Questa pera Questa pure è buona Questa pure è buona Questa è buona Questa? Questa è buona Non me li distingui? Ah Che paschette? No, no Ah Paschette Vengono qua Vengono qua Vengono qua Vengono qua Prendi solo la cenza bricata Sto a sfruttare bene Questa è buona Questa è puri a buona Un bel po' più dolce di quell'altro Questa qua? Questa Tu l'hai mangiata? No Brava Questa è la mia Questa è la tua Apri 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 Chiudi chiudi Questa è la vostra Questa è la vostra Un sapore che non ti sbagli Hai detto quell'altra Si però il KPM era meglio Prima di mangiare quella Era ristretta Era ristretta Era ristretta Questa è la cannella Si non è male Perchè lo sa andiamo a mano il caffè Porca miseria Ha 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 E' ristretta Era ristretta Alla faccia Luce faccia E' bollente Si si Questo com'è in carne? Si Questo? Questa è un sapore particolare 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 Tu ripiti eh Ma il limone Questo? Amadosca Ragazzi Già 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 Siamo d'accordo Con questi ragazzi qua Proprio mi piace Proprio Eh? Buoni Belli Buoni Belli Ah C'ha usa Questo qua Prendilo 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 E io ce l'ho Questo l'ultimo? No Eh? Ti piace? E' il meno Ma quale? Questo L'ultimo Ma è questo Non è quello mio Quale? No a me mi piace Il primo Hai tutto Questo è quello Meno Ma più Capito? Provo Del pino C'è un cazzo di fare Tutti qua dietro Riprovate pure il mondo E ti credo che poi dopo Vado a cercare Ehi, Del pino C'è un ladro Prendo di raggiungere Io penso questo Non ho capito più un cazzo Sono tre pezzi, sembrano uguali, questo mi sa che è Decarla. Mangia questo alla fine, mi sa di sì, mangia quello alla fine. Un pezzo è Decarla. No, alla fine me lo faccio mandare quello là. Questi costano uguali? Sì. Questo è il più particolare. Il meno particolare. Prende il dolce e il poco più. A me la penna era il primo quello con la sfogliata. Era buono buono buono. Non è tanto questo? È la cosa che mi piace. Perché fa un po' di uova. Stando l'uovo cotto, è quasi una trittata. Questo è buono? Questo è molto buono. Buono. Tu sei quel retro gustino di limone che è prassato. È il limone? Il limone non è il pozzo, c'era per te. In modo in valigia ci abbiamo fatto un pozzo. Non te lo fa passare. Ah, c'è ragione, non te lo fa passare. Eh, adesso ci metto il deodorante però sì sì. assolutamente. Ahahahah! Qua persona? Ma Roma non pò l'hoärke di me. Il mio povero deodorante giace in fondo ad un cestino. Mi basta succhione! Io ho un sistema ragazzinato. No что ли? Un po deodorante è stato dentro la casa… Ma no, sicuro. Ma, sicuro. , mica perché… non era un deodorante di quelli… E quello rob. Ma io per entrare il fund… Ho fatti quello di provare con quello. non lo prendo perché non lo prendo perché non lo prendo e lo paghi tu mi viene una specie di 50 a testa, tu tieni casa e paghi, quando ti conosci la casa, così non facciamo i conti questo qui non lo vuoi? basta, ma io l'ho mangiato, Riccardo si l'ho preso, questo è il tuo, è il tuo Riccardo, il mio l'ho preso è buono, buoni tutti, è quello che mi ha entusiasmato di meno, è l'entusiasmante, ecco, perché la sfogliata secondo me è la migliore, poi mi è piaciuta quella staccia di crema all'emone, cioè non pasta crolla, no, esatto guarda, ieri lui ha preso, Giorgio diceva papà prendiamo le paste, eravamo andati a prendere il caffè con Barbara invece delle paste lui ha preso la pura da quella di buona alla scuola, e come sarebbe?